se ma mica si piantano le patate così eh devi piantarle dall'altra parte mica vengono su adesso ma che lavori sono questi qua dai ma le sto cogliendo le patate adesso eh ho capito ma mica si si devono cogliere così i piatti li metti dall'altra parte perché così vengono più su per l'autunno vengono più su ma se li metti qua ciao eh ma lei ne capisce qualcosa di patate io piantavo le patate nel 1942 sì siamo nel 2023 e poi perché non si mette su anche uno scafando ci vediamo la prossima arrivederci